Cioè ragazzi, guardate la mole di prodotti Xiaomi che ho sulla mia scrivania. Sono ben 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ma perché sono così circondato dai prodotti di Xiaomi? Perché ho pensato, siccome siamo in estate, fa caldo, la tecnologia passa quasi in secondo piano, ho detto, perché deve passare in secondo piano la tecnologia? Vediamo un po' quelli che possono essere i prodotti più utili da utilizzare proprio in questa parte così calda, così a posa dell'anno. E allora ho deciso di realizzare, grazie anche alla collaborazione di Gearbest, questa bellissima nuova serie, questa mini serie dedicata proprio ai prodotti Xiaomi ideali per l'estate. E il primo di cui vi parlerò in questo video, beh, lo state già sentendo. Avete capito di cosa si tratta? Beh, sì, ve lo faccio vedere. Si tratta di lui, che ufficialmente non esce con marchio Xiaomi, però almeno dalle mail che ho scambiato con Gearbest, dovrebbe essere un simpatico prodottino, veramente utile per l'estate. Quante volte avete visto i cinesi in giro per la vostra città con questi oggetti qui? Beh, sapete, io come voi magari all'inizio li ho snobati, non ho detto, ma che cosa ce ne facciamo di un ventilatorino portatile così? Ma sapete cosa? Per il costo che ha, che è veramente irrisorio, e vi lascio il link in descrizione insieme ai link di tutti gli altri prodotti, devo dire, forse ne vale veramente la pena. Perché questo qui è un ventilatore che si carica tramite micro USB, quindi ha una batteria integrata, io lo accendo perché fa caldo, ecco così vi parlo molto più tranquillamente, ha una batteria integrata che può essere ricaricata direttamente tramite il cavo micro USB USB A, che trovate nella confezione, quindi non dovete comprare assolutamente nulla. Il prodotto è molto semplice, a me questa colorazione blu piace davvero tanto, è una bella tonalità blu pastello, e come ogni ventilatore, ragazzi, non devo spiegarvi come si utilizza, quindi premete il pulsante qui davanti, che è il pulsante ON, e lo attivate, lo attivate però con la prima modalità di utilizzo, che è quella più soft, dopodiché se premete nuovamente il pulsante, attivate la seconda modalità, quindi velocità intermedia. Se lo premete ancora, andiamo alla velocità massima. Vi faccio sentire la differenza di sound tra le tre modalità. Quindi, fondamentalmente non c'è molto da dire su questo prodotto, però forse è uno dei più utili per l'estate, non solo perché appunto può tornare comodo da portare in valigia, da portare in vacanza, poi ha una bella impugnatura, si tiene bene in mano, ma soprattutto, ragazzi, devo dire, di ventilatori nella mia vita non ne ho provati tanti, almeno di questo tipo, però questo cosino qui, così piccolo, guardate, è proprio piccolissimo, ma emana un'aria veramente freschissima, già al minimo, già a questa velocità, poi se aumentate proprio veramente vi asciuga dal sudore, dalla calura in pochissimo tempo. C'è di più però perché oltre al caricatore micro USB, USB, Xiaomi, o chi per lei insomma, fornisce anche questa pratica bassetta, così se volete appoggiarlo su una superficie piana, lo potete fare, tra l'altro qua sotto, mi sa che questa è anche una superficie adesiva, quindi se lo volete ad esempio attaccare anche a un muro, così diciamo, lo potete fare, io potrei attaccarlo benissimo, ad esempio nella parte alta della mia scrivania, in modo da avercelo così appeso, che mi refrigera il volto, quando appunto fa veramente caldissimo, quando il mio iMac, nonostante le ventole accese, inizia a emanare un calore assurdo. Quindi ragazzi, io ora lo vado a collegare, perché comunque è un po' scarico, però vi posso dire, la ricarica è velocissima, e soprattutto vi dura una settimana, dieci giorni di utilizzo intenso, quindi veramente nessun problema. Non avete da temere neanche di dita falciate, perché finiscono qua dentro, perché fondamentalmente non riuscite ad inserirle, quindi possono stare tranquilli anche i bambini. Vi dicevo, vado a montare questo video, nel frattempo lo accendo, perché così mi refrigera, e se voi siete interessati a scoprire, diciamo, l'evoluzione di questa serie, mi raccomando lasciate un like, e continuate a seguirci. Noi ci rivediamo in ogni caso, ad un prossimo video. Ciao a tutti, da Andrea Cervone, per iPhoneItalia.com